Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Un saluto a tutti da Max. Torniamo a parlare di amici ancora una volta perché c'è stata una super sorpresa durante la finale. Ebbene, anche il talent show di Maria De Filippi è volto al termine come tantissimi altri programmi e parleremo ancora di programmi che andranno a chiudere perché si avvicina all'estate, signori, noi dobbiamo prendere il sole tranquillamente senza avere pensieri televisivi. E sarà così come ogni anno alla fine. Comunque la vittoria c'è stata tra le lacrime di gioia e applausi da parte di Mattia Zenzola che ha detto mi sembra un sogno ma è davvero mia la coppa. Sono state queste le prime parole del giovane talento davanti alla coppa del trionfo. Visibilmente è emozionata anche la padrona di casa, cioè Maria De Filippi, che rivolgendosi a lui ha detto sono veramente contenta per te. Finalmente dopo due anni sei riuscito a coronare il tuo sogno. Ma come ogni finale degna di nota, degna di questo nome, le sorprese non sono mancate con tanto di polemiche annesse ovviamente, ma su questo non avevamo dubbi. Perché Aaron era presente durante la finale di Amici 22? Il pubblico italiano ha assistito all'ennesima proclamazione del vincitore del talent show di Maria De Filippi. Sale sul podio Mattia Zenzola, seguito da Angelina Mango che ha vinto il premio della critica pari a 50.000 euro. Al terzo posto invece Isobel, che porta a casa il premio team, mentre per Wax il quarto posto è il premio Oreo. Eppure un momento ha decisamente stranito il pubblico, quello che ha visto Aaron fare ingresso nello studio di Amici dopo aver perso la semifinale contro Wax. Il giovane talento ha fatto ritorno in studio in occasione della consegna dei premi speciali. Una sorpresa che per alcuni utenti non è stata vista di buon occhio. Infatti molti sono stati quasi del tutto convinti che per lui fosse riservato un premio speciale per poi scoprire che le cose sono andate diversamente. E dunque via libera al coro su Twitter tra gli utenti dove si è riversato il dibattito su un altro dettaglio. Alcuni hanno scritto A Aaron è entrato solo per vedere gli altri prendere i premi senza essere minimamente calcolato. Che vergogna, veramente, ha scritto un utente. E ancora, ma hanno fatto una superca asterisco 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 ad Aaron. Cosa è entrato a fare il povero Aaron? Nessun premio per Aaron e resta il mistero che nessuno è riuscito ancora a svelare, perché Aaron è stato chiamato per assistere al momento della consegna dei premi speciali. Il giovane talento è andato incontro all'eliminazione nel corso della semifinale quindi a un vero e proprio passo dalla vittoria. E come spesso accade, ad accogliere gli allievi della scuola è sempre pronta Silvia Toffanin che all'indomani dell'eliminazione ha intervistato Edoardo Boari nello studio di Verissimo. Il giovane talento ha raccontato qualcosa. Ho avuto un momento difficile quando andavo a scuola perché nessuno credeva in me. Ho provato ad andare avanti con le mie gambe. Il momento più difficile nella mia vita è stato il post-Covid perché mi sono arrivate tante paure addosso. Mamma mi ha aiutato tanto. Stavo sul banco di scuola e tremavo. Avevo paura di stare solo. Ho sofferto di attacchi di panico. Tutto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.